ciao sono chico gussoni e sono qui a presentarti il nuovo pedale di mxr il joshua ambient eco presenta una serie di parametri molto interessanti racchiusi in un pedalino delle dimensioni ovviamente standard solitamente utilizzate da mxr e ha la possibilità di avere oltre che alle regolazioni e i parametri che troviamo solitamente su tutti i delay abbiamo una serie di appunto parametri che sono molto interessanti non mi resta che andarvelo a far ascoltare grazie 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 grazie